Intervista shock. Le pesanti accuse di Giuseppe Rossi che fanno tremare il mondo del calcio. Prima di continuare iscriviti al canale, clicca sulla campanella e lascia il tuo like. Oggi ti porteremo dietro le quinte del mondo del calcio attraverso gli occhi di un campione che ha toccato il cielo con un dito, solo per scoprire quanto possa essere crudele questo sport. Giuseppe Rossi, un nome che una volta echeggiava nei corridoi dei giganti del calcio europeo, ci porta nel viaggio della sua vita e carriera. Un talento destinato a brillare, conteso dai grandi allenatori, Pep Guardiola e Antonio Conte, promessa luminosa per l'Italia, Rossi racconta come il destino gli abbia giocato brutti scherzi. Nel 2011, al culmine della sua carriera, dopo essersi ripreso da un grave infortunio al menisco, il futuro sembrava roseo. Tuttavia, la strada verso il successo si è presto trasformata in un calvario di infortuni che non hanno mai spezzato il suo spirito da combattente. Rossi, noto come Pepito, dopo il ritiro è tornato negli Stati Uniti. La sua vita oggi? È un padre devoto, immerso nella gioia di crescere due figlie e di supportare la moglie. Ma il calcio non ha mai lasciato il cuore di Rossi. Ha fondato la Giuseppe Rossi Academy per condividere la sua passione con le nuove generazioni. Ma c'è molto di più da scoprire su questa stella del calcio. Durante gli anni d'oro, Rossi era vicinissimo a unirsi al Barcellona, a giocare accanto a Messi, sotto la guida di Guardiola. Un contratto quasi firmato, ma mai concluso. Quasi nello stesso periodo, anche la Juventus sembrava pronta ad accoglierlo. Ma il destino aveva altri piani. Tuttavia, la sua esperienza ha dei lati negativi che Giuseppe non intende nascondere. Il lato oscuro del calcio si è rivelato. Il calcio è un mondo strano che vedo un po' finto, dice Rossi. Quando le cose vanno bene, ti stanno tutti attorno. Poi, quando arriva un infortunio, non ti guardano più in faccia. Quello che Rossi ha imparato dal calcio, l'ha appreso nella maniera più dura. Solo la famiglia rimane al tuo fianco nei momenti più bui. Un viaggio di trionfi e disastri, di grandi sogni e crudi risvegli. La storia di Giuseppe Rossi ci mostra il vero volto del calcio, lontano dai riflettori e dalle ovazioni. Cosa ne pensi della storia di Giuseppe Rossi e del suo rapporto con il mondo del calcio? Avresti mai pensato che il calcio nascondesse questo lato oscuro? Scrivilo nei commenti!